Si aggravano le condizioni di salute di Buminbol a Duliadei. I medici che hanno in cura il rete hailandese hanno deciso di collegarlo a un macchinario per la respirazione assistita. Buminbol, 88 anni, siede sul trono da ben 70 ed è considerato la figura centrale per la stabilità politica del paese.